Il 2 novembre 1981, Rai 2 trasmette la prima puntata di Blitz, il programma condotto da Gianni Minà che in diretta concorrenza con Domenica Inna di Pippo Baudo caratterizza le domeniche pomeriggio della rete fino al 1984. Blitz rappresenta un'occasione di sperimentazione per il linguaggio televisivo italiano. L'idea è quella di proporre un tema a settimana dall'amore al grande cinema, dalla danza alla nazionale di calcio e di svilupparlo attraverso tutte le possibili forme di comunicazione. E qui c'è un dico strepitoso, perché fa così. Dico? Sequenze di film, esibizioni in studio, riprese in teatro, canzoni, arie liriche, balletto, interviste, collegamenti esterni.